Diversamente da me, spesso i filosofi non capiscono che anche gli scienziati riescono a formulare idee molto confuse dal punto di vista filosofico. Del resto, nemmeno gli scienziati sono coscienti di questo fatto, fino a quando non devono confrontarsi con temi filosofici e a questo punto capiscono che hanno bisogno di aiuto. In effetti, i filosofi che conoscono bene la scienza, e ce ne sono sempre di più, possono dare un grande contributo aiutando gli scienziati a capire se una domanda non è stata posta in modo corretto per poterla sostituire con una domanda migliore. Mi piace pensare che il compito dei filosofi sia quello di cercare di formulare le domande giuste. Quando non sai che domande fare, allora hai bisogno della filosofia. Non è solo un problema di divulgazione scientifica, poiché il problema è più complesso, è un problema di scienza per la gente. Consiste nell'aiutare la gente e i cittadini a capire l'importanza delle scoperte scientifiche, ma anche aiutare gli scienziati a capire che non possono rispondere ad alcune domande che vengono formulate dai cittadini. Non devono pretendere di avere tutte le risposte, specialmente sulle questioni morali.